Il recupero dei giocatori che hanno giocato comunque a Salerno secondo me sarà fondamentale quindi domani mattina si valuterà soprattutto in base a questo criterio si sceglierà il sostituto che possa essere o a centro campo o davanti ma ripeto cambieremo in base a chi avrà recuperato possa aver recuperato meno rispetto alla partita di Salerno Sappiamo benissimo che dovremmo lavorare di squadra che dovremmo avere un atteggiamento di una squadra affamata perché la motivazione sta sempre alla base di qualsiasi tipo di partita e a maggior ragione lo vogliamo fare in casa davanti ai nostri tifosi, davanti al nostro pubblico Una delle squadre che sta proponendo per coraggio, per idee offensive anche qualcosa di interessante una squadra che attacca con tanti uomini, una squadra che ha fatto tanti gol e quindi una squadra sicuramente da prendere con le molle ma con l'atteggiamento di una squadra che vorrà comunque conquistare a tutti i costi la vittoria Grazie per la visione! Grazie!